Che il presidente americano, Donald Trump, non sia un uomo particolarmente attento all'etichetta e un fatto ormai noto e assoddato. Ma in certi casi l'attenzione alle formalità è d'obbligo, e così l'ultima volta è stata la moglie Merania a richiamare all'ordine, in modo più che discreto, il marito. Ma il suggerimento, immortalato in un video, ha già fatto il giro del mondo. Nelle immagini, registrate a Pasqua durante il tradizionale Easter Egg Roll che ha portato 21.000 persone alla Casa Bianca, Trump ha commesso una gaffe che la moglie ha ritenuto imperdonabile. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, infatti, il presidente si è dimenticato di mettere la mano destra sul cuore, come richiede invece l'etichetta. E così lei, dandogli discretamente un colpetto con la mano, gli ha ricordato la mancanza. Trump ha capito immediatamente, e si è corretto portando anche lui la mano al cuore. e si è corretto portando anche lui la mano,